Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini, in FIPILI per lavori 4 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra verso Firenze, è chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno, sempre in FIPILI con un'uscita alla Strassigna e un'uscita a San Mignato entrambe provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze, in A1 in direzione Roma code in uscita a Firenze Scandici e rallentamenti tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello, in direzione Pisa code sul BIVI a 1 a 11 provenendo da Bologna e provenendo da Roma e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est, ancora in A11 code tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze, muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio!